attenzione la squadra d'attacco ha trovato una bomba fuori dalla linea di tiro dell'ads aps attivo in questo settore aps pronto e attivo ancora dieci secondi mancano cinque secondi dispositivo attivato localizzata dispositivo in campo dispositivo ok dispositivo ok l'ultimo nemico rimasto cambio caricatore vittoria alla difesa nemici eliminati aps 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 Grazie a tutti Dobbiamo individuare una bomba 10 secondi 5 secondi La missione è trovare e disinnescare una bomba 10 secondi 5 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 secondi